Siamo, andiamo per partire, allacciamo le cinture. Lei è allacciata la cintura? No. Siamo, andiamo per partire. No. Direzione Studios. Artigliamo? Forze. Direzione Studios. Siamo carichi, siamo carichi per Luna Park, per la casa dei Simpson. Ecco, soprattutto. Il tempo non è dei migliori, ma basta che non piova, la temperatura è decente, accettabile. Non fa né caldo né freddo, anzi, a volte è più freddo che caldo. Perfetto. 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 Facciamo un giro alla montagna russo di Harry Potter, vediamo un po' come sono, secondo me sono una passeggiata, Francesca un po' si preoccupa, però vediamo, vedremo. Grazie per la visione! Ho superato il cantello quel tubo in Nevada e le prime cose che vedi sono cassinole. Sì, Sarpalas, Antonio spaparanzato lì dietro, valigie in giro, qua c'è uno specchio, condizioni pietose e ora mi rimetto in sesto, poi bagno o meglio lavandino con tutti i prodotti, specchio figo, specchio gigante, doccia gigante, guardate quanto è grande, bagno, cioè water, stanza con solo water, cacchigienica e telefono che non si sa mai, e qui non so cosa ci sia, ok. Allora, cassaforte, armadio, aste da stiro, ferro da stiro, figata! Ciao, facci vedere! Vediamo! Electronic mirror! Cosa sarà mai? No, vabbè! La televisione! è la televisione! Vabbè! Se potessi morire in tutto stanza e tutto quello che si sente. Ora andiamo a girare il hotel. Sì, andamola! Cosa sarà mai? No, vabbè! Sì, andamola! Sì, andamola! . 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 Sto messo in the smothering of your sea creatures! I cannot choose one child of a mother Vai, 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 finito. Dici che ora è, amore? Che ora è? Sono le 8 e un quarto di mattina Di mattina, bravo, specifica E qui giocano, probabilmente ce li abbiamo lasciati di sera Ciao Dici che mi arresta Questo è solo uno dei casino del Caesar Palace Perché a seconda della zona, ad esempio, noi siamo al Forum Al Forum Tower Ok Poi c'è la parte dedicata sia Colosseo, c'è Giulio, c'è... E qual era l'altro? Augustus, insomma, tutti gli imperatori Forum Tower qua E noi siamo alla parte del Forum Tower La... Sfizzano la cinza, oggi andiamo al 53 e se vi piace Sfizzano la cinza, oggi andiamo al Grand Canyon 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 Sfizzano la cinza Sfizzano la cinza, oggi andiamo al Grand Canyon Sfizzano la cinza, oggi andiamo al Grand Canyon Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.